Piana, allora Sanremo, sì è bello seguire e vedere il festival ma qui come regione siete un po' più in prima linea, più che altro per seguire il territorio, per cercare di lanciare una promozione di questo territorio. Ma assolutamente sì, Sanremo è sempre stata una vetrina internazionale importantissima per far vedere quanto sono brave i nostri operatori turistici, le nostre strutture ricettive, i nostri ristoratori e soprattutto i nostri produttori, gli imprenditori sia del settore enogastronomico che anche del settore floricolo. E' importante lanciare un brand unico che è quello del Made in Liguria e niente di meglio che il festival di Sanremo perché oltre alle performance canore si possono apprezzare anche quelle che sono le performance enogastronomiche che il nostro territorio offre.